Il paradiso delle signore. Venerdì, 25 dicembre 2020. Federico, racconta a Luciano, come è andata la cena della vigilia, e racconta l'emozione di Silvia, quando l'ha visto. Il ragioniere, lo invita a perdonare la madre, che l'ha sempre amato. Federico Mormai, sembra proprio intenzionato a cedere. Gabriella Mecosimo, hanno finalmente scelto una data per convolare a nozze. Ed aspettano una buona occasione, per comunicarla a tutti. Marcello e Salvatore, intanto, sono costretti a trascorrere il Natale, lavorando in caffetteria. Vittorio, porta Beatrice, Serena, e Pietro, a fare il pranzo di Natale, al circolo. Armando, riceve la bicicletta di Agnese, come regalo. Ma quest'ultima, ha nascosto un biglietto d'amore, al suo interno. Ferraris, è felicissimo, e gli manca molto Agnese. Intanto, Federico, apre il regalo che gli è stato fatto, da parte di Umberto. Ma la sua prima impressione, non è affatto buona. Almeno inizialmente, il ragazzo, non gradisce assolutamente, il dono di suo padre biologico. Grazie.